I poteri del giudice dopo la riforma Cartavia. Vediamo quali sono in questo video. Ciao, sono Fabrizio Bartolini e sono un avvocato cassazionista, cioè un avvocato che può assistere a difendere i propri clienti in tutti e tre gradi di giudizio presenti nel nostro ordinamento. Come saprai, dal 28 febbraio è entrata in vigore la riforma Cartavia che ha rivoluzionato tutto il sistema di diritto di famiglia. E quindi oggi ti voglio affrontare e ti voglio illustrare quali sono, a seguito di questa riforma, i poteri del giudice ad oggi. La riforma Cartavia ha posto, come era giusto che sia, al centro il minore, quale soggetto a cui si deve guardare principalmente nelle cause di separazione e divorzio. Proprio questo motivo i poteri del giudice sono stati quindi ampliati maggiormente rispetto a prima. A mio avviso non è proprio sempre un bene ampliare a dismisura i poteri del giudice, perché mentre in teoria è comprensibile il motivo per cui la riforma procede in questo senso, e si possono anche condividere i motivi, però poi nella pratica si può assistere anche a giudici che possono davvero fare il bello e il cattivo tempo senza alcuna regola da rispettare. Poiché appunto i giudici, e è normale che sia, non sono macchine ma essere umani con i loro limiti, le loro convinzioni e anche con i loro errori che tutti commettono come loro, si capirà quindi quali rischi si potranno incorrere se si capitasse dinanzi magari a un giudice che ha preso, come si suol dire, fischi per fiaschi. Con la riforma il giudice oggi può adottare i provvedimenti che ritiene più opportuni anche al di fuori del disposto dell'articolo 112 del codice di procedura civile. Cos'è quest'articolo? Beh, quest'articolo è detto a un principio secondo il quale il giudice non potrebbe andare oltre il richiesto dalle parti nella sua decisione. In pratica il giudice non può fare come gli pare, ma deve attenersi alla domanda proposta dalle parti, accogliendola o rigettandola, ma non andare mai oltre. Ebbene, quando si parla di diritto di famiglia, ad oggi questo principio cardine del diritto non esiste più e il giudice quindi potrà decidere come meglio crede anche al di fuori e anche oltre di quello che è stato richiesto e anche se non richiesto. Inoltre, altra novità, ma già diciamo c'era un po' prima, il giudice può disporre di tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni al fine di decidere. Mentre la riforma, come sappiamo detta dei termini ben precisi per le parti e rispettivi difensori per proporre le richieste istruttorie al giudice, questi ha ampia possibilità potendo andare appunto ben oltre la richiesta dei mezzi istruttori e quindi assumere mezzi istruttori per esempio che le parti non hanno richiesto. E poi il giudice ancora può ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni, sull'effettivo tenore di vita delle parti, anche tramite polizia tributaria. Questi sono alcuni dei principali poteri che sono stati dettati dalla nuova riforma e che fanno propendere, quando si può, a indirizzare il proprio sguardo magari verso una transazione della causa, essendo sempre più complicato e rischioso andare in giudizio. Questo perché non sappiamo mai ovviamente chi ci troviamo di fronte e comunque rimettiamo veramente e completamente la decisione nelle mani di un terzo. Quindi bisogna valutare ad oggi ancora con più, diciamo, contezza e più responsabilità il fatto di andare ovviamente in giudizio. Il fatto che la Carta abbia esteso questi poteri al giudice, ripeto, la motivazione, perché è sempre dettata nell'interesse dei minori, è più che giusta. Il problema è che poi nella pratica vi possono essere applicazioni, diciamo, distorsive di questo principio. E soprattutto dobbiamo tenere conto che appunto anche i giudici possono sicuramente sbagliare e quindi possono fare provvedimenti e prendere, diciamo, decisioni che senza limiti possono andare, diciamo, a influire negativamente sulle parti, ingiustamente ovviamente ritengo. Bene, se ti è piaciuto questo video, metti un like e seguimi per essere sempre informato sui miei prossimi video. Se invece vuoi contattarmi, scrivimi all'indirizzo email che trovi qui sotto e inoltre seguimi sui miei canali social nonché sul mio blog all'indirizzo web che trovi qui in sovraimpressione e sarò lieto di ascoltarti e difenderti nel migliore dei modi. Ciao, a presto!